Centro urbano sulla Murgia, tra i 420 e i 485 metri sul livello del mare, a 40 km circa a sud ovest di Bari e 15 km scarsi a nord di Matera. Principalmente famosa per la produzione di pane di semola di grano duro nei forni storici, alimento oggi protetto dal marchio DOP. Tuttavia i prodotti legati alla città sono numerosi, dalla lenticchia al liquore Padre Peppe. Chiamata Leonessa di Puglia per lo spirito combattivo mostrato in passato dagli abitanti, vanta numerose testimonianze storico-architettoniche, dalle mura megalitiche del IV secolo a.C. alla cattedrale voluta da Federico II, re celebrato ancora oggi nel Festival Federicus. Prendono il nome dalla città l'Uomo di Altamura, resti di un uomo di Neandertal ritrovati a pochi chilometri di distanza, e il pulo, cavità carsica a 5-6 km dall'abitato. Tipici della conformazione urbanistica medievale, con funzione sociale e difensiva, gli slarghi qui chiamati claustri, spesso legati a nomi illustri, a gruppi etnici o ad aneddoti impressi nella memoria cittadina.